Siamo con Chiara Palermo, responsabile di rapporti istituzionali di Assilea al Salone Leasing 2018. Sarei la moderatrice dell'evento sull'Energy. Comparto Energy ha un ruolo importante nel mondo dell'easing, soprattutto in visione prospettica per un cambio di approccio al mondo dell'energia da parte delle imprese e dei cittadini. Quali sono le grandi novità che impattano sul mondo dell'easing? Il settore dell'easing nell'energia ha sempre avuto un ruolo molto importante. I primi dieci anni, dal 2000 al 2010, l'Italia è sempre stata i primi posti nelle classifiche europee per gli investimenti nel settore dell'energia, soprattutto con il leasing finanziario. Poi c'è stata un po' una battuta d'arresto dovuto al fatto che gli incentivi di fatto sono venuti a mancare e quindi questa commistione molto forte tra l'incentivo e l'investimento nei confronti dell'energia ha dato un po' una battuta d'arresto a quello che era il settore degli investimenti nell'energia pulita. Solo che oggi l'energia a livello internazionale è un tema fondamentale, si parla di energia pulita, investimenti nel sole, nell'acqua, nel vento e quindi adesso quello che notiamo è che oltre a una riconsiderazione nell'investimento e negli incentivi nel settore dell'energia, c'è anche tutto un settore privato che tende ad affiorarsi in questo mondo degli investimenti e a scollegarsi quindi da quelli che sono gli incentivi pubblici per fare un po' riprendere quello che è il settore degli investimenti nell'energia pulita in un paese che di fatto sfrutta il sole, sfrutta il vento, geograficamente è l'ideale per il settore dell'energia e per l'investimento. Assolutamente e se posso, quali sono i due bullet point principali del vostro seminario? Efficientamento energetico, il leasing di fatti ben si presta alla pubblica amministrazione, quindi di fatto efficientamento energetico vuol dire sfruttare meno energia per ottenere il massimo risultato. Con il leasing finanziario rivolto alla pubblica amministrazione l'efficienza è veramente una parola fondamentale. Altro focus, ne abbiamo parlato prima invece, è quello dello sviluppo dell'investimento di nuovo nell'energia attraverso l'allocazione finanziaria e perché no anche attraverso il noleggio. Con lo sguardo non solo al paese Italia ma al paese Europa e anche al paese mondiale. Grazie e buon lavoro. Grazie mille.